Sostizio d'estate in grande stile nel borgo di Benvenuti al Sud, infatti uno dei borghi più belli d'Italia, Castellabate appunto, si è animato di suoni ed emozioni per la festa della musica, musica fuori dal centro. La manifestazione organizzata dall'assessorato al turismo e alla cultura del comune, in stretta sinergia con il concerto bandistico Santa Cecilia di Castellabate coordinato da Osvaldo Capezzuto, gode del patrocinio della Commissione Europea, del Ministero per i beni e le attività culturali, della SIAE, dell'Associazione Italiana per la promozione della festa della musica, dell'Associazione Fonografici Italiani. Castellabate per il primo anno partecipa alla 25esima edizione della festa della musica, un'idea nata nel 1982 in Francia, da allora tantissime nazioni hanno aderito, tra cui anche l'Italia e per la prima volta anche Castellabate. Io desidero ringraziare perché per la collaborazione il concerto bandistico Santa Cecilia di Castellabate che con l'assessorato al turismo e alla cultura del comune di Castellabate ha appunto organizzato questa prima edizione. Castellabate sarà una serata in musica, tanti gruppi di vari generi musicali si alterneranno nei vicoletti con un concerto di 80 studenti degli istituti comprensivi di Vallo della Lucania, il Parmenide e l'istituto Gatto di Agropoli per un concerto al tramonto, quindi tra poco sul Belvedere San Costabile. Un colpo d'occhio bellissimo, una location perfetta per questa iniziativa. Castellabate è un'antica tradizione musicale, basti pensare che noi vantiamo un concerto appunto bandistico di Santa Cecilia che è nato nel 1848. Non solo ospitiamo un'importante scuola civica musicale che forma, che prepara tantissimi giovanissimi a quella che è una delle arti più belle in assoluto, la musica. Io mi auguro che questa prima edizione della festa della musica si possa ripetere ogni anno crescendo anche qualitativamente e desidero ringraziare tutti gli artisti, tutti i musicisti che gratuitamente oggi hanno prestato la loro opera qui a Castellabate. Castellabate è il luogo dell'incanto ma anche Castellabate è cittadella della musica. È la prima edizione della festa della musica che tocca i 25 anni di attività. Artisti che suoneranno gratis in luoghi aperti al pubblico, questa musica fuori centro e oggi noi abbiamo la fortuna di vivere questa avventura importante con tanti ragazzi musicisti che sono proprio la sinergia e la forza dei nostri licei, delle nostre scuole civiche di musica e poi dell'associazione concerto bandistico Santa Cecilia, questa bellissima realtà che caratterizza Castellabate, il paese di Lucero e Leoncavallo. È un'iniziativa importante che vede un paese in festa, un paese in musica. In ogni angolo abbiamo cominciato con le ragazze del ballo, termineremo con la musica dance ai piedi del castello. una bella giornata di festa e di musica qui a Castellabate, cittadella della musica.